Musica Eccoci in diretta, buonasera, bentrovati all'Armonia della Vita. Siamo giunti all'ultimo atto di questo cammino lungo 15 puntate che dallo scorso mese di marzo ci sta accompagnando verso l'incontro mondiale delle famiglie, il decimo, che andrà in scena a partire dal prossimo 22 di giugno fino a domenica 26. Vedete già inquadrati i miei ospiti, alla mia destra sempre la mia guida, ecco il mio compagno di viaggio Don Vincenzo in questo bel percorso che abbiamo fatto insieme. Bentrovato Don Vincenzo. Grazie, ci siamo guidati a vicenda. È vero, è vero. Un saluto a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Grazie, grazie Don Vincenzo. Alla mia sinistra oggi abbiamo come ospite il nostro arcivescovo Padre Franco Moscone che in questa giornata un po' ingarbugliata, ne parlavamo un po', ecco, fuori onda, ha trovato spazio per essere qui con noi per parlare di famiglia in vista di questo importante appuntamento. Grazie Padre Franco, ben trovato. Grazie a te, a tutti, a Don Vincenzo, al cammino che avete fatto e spero insomma di essere all'altezza di questo momento, anche se ci vorrebbero delle famiglie, ecco. Ne abbiamo avute tante. Anche con i bambini. Ne abbiamo avute tante, Padre Franco, abbiamo avuto tanti ospiti. Prima, ecco, ce lo dicevamo… Un momento fa ho giocato con una famigliola su di fronte nella piazza del santuario, che poi ho scoperto che erano di Monte. Ho detto, sono appena arrivato da Monte Sant'Angelo. E' bello, insomma, trovarsi con il papà, la mamma, i bambini, giocare insieme, insomma. Il nostro viaggio, Padre Franco, è stato lungo tutta l'Italia, potremmo dire, ecco, perché siamo andati a Milano, siamo andati in Umbria, a Roma, siamo stati in Sicilia, ecco, ora non li ricordo neanche tutti, quindi Napoli, abbiamo abbracciato davvero tutta l'Italia, è stato davvero un viaggio molto bello. Oggi lo vogliamo chiudere, non so se provvidenzialmente, Don Vincenzo, parlando di nonni e di anziani, perché questo è il titolo della nostra puntata, anche perché un'altra ulteriore coincidenza è che Papa Francesco sta tenendo in queste settimane delle bellissime catechesi sul tema della vecchiaia. Noi parleremo anche di questo, stasera parleremo anche di tanto altro, però mettiamoci all'ascolto di Papa Francesco e vediamo cosa ha da dirci su questo importante tema. La giovinezza è bellissima, ma l'eterna giovinezza è un'allucinazione molto pericolosa. Essere vecchi è altrettanto importante, è bello, è altrettanto importante che essere giovani. Ricordiamocelo, l'alleanza fra le generazioni che restituisce all'umano tutta l'età della vita è il nostro dono perduto, dobbiamo riprenderlo, deve essere ritrovato in questa cultura dello scarto e in questa cultura della produttività. Forse gli anziani devono chiedere scusa della loro ostinazione a sopravvivere a spese altri? O possono essere onorati per i doni che portano al senso della vita di tutti? Di fatto, nella rappresentazione del senso della vita e proprio nelle culture cosiddette sviluppate la vecchiaia ha poca incidenza. Perché? Perché è considerata un'età che non ha contenuti speciali da offrire né significati proprio da vivere. Per di più, manca l'incoraggiamento delle persone a cercarli e manca l'educazione della comunità a riconoscerli. Insomma, per un'età che è ormai una parte determinante dello spazio comunitario e si stende a un terzo dell'intera vita ci sono a volte piani di assistenza ma non progetti di esistenza. Piani di assistenza sì, ma non progetti per farle vivere in pienezza. E questo è un vuoto di pensiero, di immaginazione, di creatività. Sotto questo pensiero, quello che fa il vuoto è che l'anziano e l'anziana sono materiale di scarto. In questa cultura dello scarto, gli anziani entrano come materiale di scarto. E allora, Papa Francesco, fin dall'inizio del suo pontificato ha davvero battuto forte su quella che è questa cultura dello scarto riferendosi poi anche agli anziani. Allora, Don Vincenzo, partirei da te proprio per chiederti alla luce del Magistero gli anziani, i nonni, coloro i quali sono i vegliardi della nostra società come devono essere considerati? E' un'espressione di Papa Francesco commentando il brano evangelico dei due anziani, Simeone e Anna, che accolgono Gesù nelle loro braccia. Li chiama poeti, poeti della vita, poeti della preghiera, poeti dell'accoglienza. Sì, è vero, Papa Francesco ha uno sguardo particolare per gli ultimi, diciamo così, e gli ultimi sono tanti, sono i poveri materialmente, sono gli ammalati, ma tra gli ultimi ci dobbiamo mettere la categoria degli anziani in questo momento, perché a volte è difficile per loro diventare anziani, tante altre volte siamo noi che li releghiamo in case ben costruite e non c'è più posto nella nostra vita. Dico casa non solo dal punto di vista materiale, ma proprio come relazione da vivere. Far sentire loro, diceva un missionario in uno dei tanti incontri avuti quando ero in seminario, che in Africa l'anziano era considerato la biblioteca del villaggio e la sera l'anziano si metteva fuori della casa, i giovani, i bambini si riunivano intorno a lui e lui raccontava la vita. E quello è il modo più bello, perché si valorizza l'anziano, si valorizza la sua vita, si valorizza la sua memoria, perché senza memoria non abbiamo storia e quindi non abbiamo vita e quindi non siamo noi, non abbiamo identità. E da lui parte poi quell'impegno che giovani e ragazzi sono chiamati a coltivare nella propria vita per poi poterla donare anche agli altri. Quindi è un valore di bellezza che dobbiamo cercare di scoprire. I nostri anziani, di proposito dico bellezza, forse non sono belli fisicamente, hanno le loro rughe e a volte anche portano le loro problematiche, le loro malattie, ma hanno una bellezza che esprimono in un fascino di vita vissuta, di esperienza portata. E a questo ecco dobbiamo imparare a saper guardare. Se c'è un'altra parola chiave che ci colpisce del mondo degli anziani, ecco padre Franco, è la parola tenerezza. E accanto a questa cultura dello scarto che Papa Francesco ha teorizzato, ecco, fin dall'inizio del suo pontificato c'è la rivoluzione della tenerezza, che è un, potremmo dire, un contrappeso essenziale, ecco. Papa Francesco fin dall'inizio del pontificato ci ha abituato ad un vocabolario immediato, che bastano poche parole, uno sguardo, ecco, per capire veramente quello che vuole trasmettere. Ha inventato questo della cultura dello scarto e ha fatto sussultare in fondo il nostro mondo, in particolare il nostro mondo occidentale, dove era abituato a scartare tutto, all'usa e getta, fino ad arrivare all'usa e getta della vita e quindi di chi magari appare senza significato o di peso nella vita, ma come reagire ad una cultura del genere che non è poi cultura, perché la cultura è qualcosa che coltiva, che fa crescere, se invece abbatte e blocca è esattamente l'opposto. Si reagisce attraverso i sentimenti e l'accoglienza. La tenerezza è fondamentale per reagire alla cultura dello scarto, sentirsi accolti, sentirsi apprezzati e saper accogliere ed apprezzare. Io credo che i nonni, gli anziani, proprio per la ricchezza della loro vita, per questa poesia che è entrata nella vita, e poesia vuol dire fare e saper fare e rinnovare continuamente la vita, più che i più giovani, che le età precedenti hanno un particolare senso dell'accoglienza e della tenerezza. Della tenerezza perché la sanno dare e trasmettere come bagaglio della vita, in particolare ai nipotini, alle generazioni nuove, ma anche perché credo che ne sentano tremendamente il bisogno. Mentre le età centrali, cosiddette della maturità o comunque di una giovinezza robusta, ecco probabilmente non sentono, non avvertono questo bisogno della tenerezza, di essere accolti, di essere apprezzati, di essere accarezzati, perché mi manca la relazione, mi manca il bello e il gusto dell'altro. Mi sembra di essere capace già di tutto, di essere indipendente. E i due momenti della vita dove l'indipendenza scompare, o perché non c'è ancora, quando si nasce e si deve crescere, e la fine quando vengono meno le forze, le forze fisiche, a volte anche quelle psicologiche e spirituali, allora lì riappare il bisogno della tenerezza. E quindi io credo che i nonni, il Papa utilizza più che la parola anziana, è una parola nonni, ha messo anche la festa dei nonni nel periodo di luglio, più o meno in una domenica vicino ai santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, i genitori della Madonna, insomma i nonni hanno questo valore aggiunto, di aver bisogno di tenerezza e di saperla trasmettere in modo grandissimo. A me di Papa Francesco colpisce molto il fatto che lui faccia quasi un'autobiografia parlando dei nonni, è molto, da questo punto di vista, molto aperto, nel senso che descrive anche qual è la sua situazione, visto che comunque ha la sua età. Ne racconta sovente del rapporto che ha avuto con sua nonna. Che tra l'altro è delle due parti. Più o meno, sì, perché erano di origine piemontese, Liguria anche mi pare la parte materna dell'Appennino Ligure, mentre la parte paterna dell'Astigiano. Comunque lui racconta soprattutto del rapporto con la nonna Rosa, che è quella che gli ha insegnato a parlare in famiglia, e non gli ha insegnato lo spagnolo, nell'italiano, gli ha insegnato il dialetto, ed era il dialetto del piemontese dell'Astigiano. E forse anche per questo che sovente utilizza anche l'espressione che quando si parla al cuore delle persone, della gente, si parla in famiglia e si deve parlare in dialetto, ossia proprio parla come mangi e dì le cose della tua giornata, della tua vita concreta. Allora, padre Franco Don Vincenzo, noi ci fermiamo per la pubblicità qualche istante e poi ritorneremo ancora qui in diretta per parlare di questa bellissima categoria dei nonni, degli anziani e di come in famiglia devono essere in qualche maniera considerati e collocati. Restate con noi. Eccoci ancora insieme, dunque stiamo parlando di questa bellissima tematica dei nonni e degli anziani. Tra un po' continueremo anche con l'ausilio del nostro arcivescovo padre Franco Moscone a entrare in quella che è una spiritualità, come la definisce anche Papa Francesco, dei nonni e degli anziani tanto cari alle nostre famiglie, tanto utili alla società, al contrario di quanto purtroppo avviene con quella cultura dello scarto che abbiamo cercato in qualche maniera di definire e di contrapporre alla rivoluzione della tenerezza, come ci insegna Papa Francesco. E a proposito di Papa Francesco, torniamo allora a metterci in ascolto della sua parola, del suo magistero, con questa altra piccola pillola che viene dalle sue catechesi sulla vecchiaia. Ascoltiamo insieme. L'intera società deve affrettarsi a prendersi cura dei suoi vecchi. Sono il tesoro, sempre più numerosi adesso e spesso anche più abbandonati. Quando sentiamo di anziani che sono espropriati dalla loro autonomia, dalla loro sicurezza, persino dalla loro abitazione comprendiamo che l'ambivalenza della società di oggi nei confronti dell'età anziana non è un problema di emergenze occasionali, ma un tratto di quella cultura dello scarto che avvelena il mondo in cui viviamo. L'anziano del Salmo confida a Dio il suo sconforto. Contra di me, dice, parlano i miei nemici, coloro che mi spiano, congiurano insieme e dicono Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. Le conseguenze sono fatali. La vecchiaia non solo perde la sua dignità, ma si dubita persino che meriti di continuare. Così siamo tutti tentati di nascondere la nostra vulnerabilità, di nascondere la nostra malattia, la nostra età e la nostra vecchiaia, perché temiamo che siano l'anticamera della nostra perdita di dignità. Domandiamoci, è umano indurre questo sentimento? Come mai la cività moderna, così progredita, efficiente e così a disagio nei confronti della malattia e della vecchiaia, nasconde la malattia e nasconde la vecchiaia? E come mai la politica, che si mostra tanto impegnata nel definire il limite di una sopravvivenza dignitosa, nello stesso tempo è insensibile, alla dignità di un'affettosa convivenza con i vecchi e i malati? C'è allora un magistero della fragilità. Non nascondere le fragilità, no? Sono vere, c'è una realtà. E c'è un magistero della fragilità che la vecchiaia è in grado di ramentare in modo credibile per l'intero arco della vita umana. Non nascondere la vecchiaia, non nascondere le fragilità della vecchiaia. Questo è un insegnamento per tutti noi. Questo magistero apre un orizzonte decisivo per la riforma della nostra attesa civiltà. Una riforma ormai indispensabile, a beneficio della convivenza di tutti. Ecco allora, Padre Franco, magistero della fragilità, che bella questa espressione di Papa Francesco, davvero illuminata direi. Da dove ripartiamo per questa riforma ospicata? Ripartiamo dalla vita, insomma, e dalla vita reale, con tutte le sue fragilità e le sue bellezze, riconoscendo che la bellezza non sta solo nell'aspetto estetico-fisico, ma sta essenzialmente nelle relazioni e nel senso che si dà alle relazioni e allo stare insieme. Tutti siamo fragili, anche chi si ritiene forte, robusto, insomma, in fondo ha dentro di sé delle fragilità che riesce a nascondere, ma sa di esserne pieno. Ecco, partire dalla fragilità ti educa, ti costruisce. Partire dalle tue fragilità, ecco c'è un magistero dentro di te, che sono le tue fragilità che gridano il bisogno di alzarsi, di sollevarsi, di cercare una relazione, di essere accolto e di accogliere, di non volersi mettere al di sopra di nessuno. E poi, ovviamente, ci sono, come dicevamo prima, età della vita, in cui questo aspetto della fragilità si evidenzia maggiormente. In questo caso il Papa sottolinea proprio l'età avanzata, gli anziani, ma allora la loro figura e la loro fragilità può trasformarsi, come ha detto, e utilizzando in un modo molto bello questa immagine, un magistero. Il magistero lo leghiamo al Papa e ai Vescovi, c'è il magistero di questa età, di questa parte della vita che è quella, diciamo, finale, almeno per quello che rimane nel tempo, ma ha un suo magistero, ha un suo insegnamento. E l'insegnamento non sta nella forza, sta nell'essere debole, nell'aprirsi ad una debolezza che cresce e quindi ad un bisogno di essere accolti. Don Vincenzo. Sì, mi piace in altre occasioni, Papa Francesco diceva che la vecchiaia non è il tempo di tirare i remi in barca, ma è una vocazione, anche questo molto bello, molto forte. E' una vocazione, è una chiamata, vivere, ecco, la propria esperienza come dono. Ed una parola, forse la dobbiamo dire anche agli anziani, di non stare ai margini, neanche loro. A volte li emarginiamo noi, a volte sono loro stessi che si mettono un po' dietro. Far tesoro della loro vita, della loro esperienza, raccontare ai bambini, ecco, la loro vita, non come memoria di un passato che non c'è più, ma dalla storia noi possiamo imparare. Cambiano le situazioni, cambiano le occasioni di vita, ma i momenti forti, vissuti, sono storia vissuta. Ecco, dire ai nostri anziani, non tirate i remi in barca, riscoprite questa vostra vocazione, che poi diventa un magistero per tutti gli altri. Ecco, penso che anche questo possa essere bello da riproporre. Allora, io esco un attimo fuori inquadratura, la regia mi perdonerà, perché voglio recuperare un po' la lettera pastorale e le linee pastorali che Padre Franco ha offerto, ecco, ha regalato a tutta la nostra diocesi lo scorso anno, ma che sono valide comunque fino al 2026, ecco. Un quinquennio abbiamo messo. Ne abbiamo tempo per studiarle, man mano, ecco, però ci piace anche parafrasarle, Padre Franco, perché con Cristo trasfigurati per un territorio e popolo di trasfigurati, mi piaceva molto, rileggendolo, ecco, questa trasfigurazione che ci deve essere anche nei confronti delle famiglie. Ecco, non c'è un capitolo dedicato, però nelle righe si può leggere in maniera molto chiara. Non c'è un capitolo dedicato nella lettera pastorale, ma c'era un capitolo dedicato nella prima lettera pastorale che aveva come verbo e come tema l'educazione. Quindi c'era un capitolo dedicato all'affettività e alla famiglia come luogo di cura, ecco, di questi aspetti, che oggi, insomma, anche in base all'ultimo documento che è uscito, ce n'è tremendamente bisogno, insomma, di educazione all'affettività vera, al senso corretto dell'amore. E qual è l'ambiente, il luogo, insomma, la culla, dove questo nasce, si sviluppa e raggiunge la bellezza e la luce di cui è capace. Essenzialmente è la famiglia. E come la trasfiguriamo, la famiglia? Bisognerebbe chiederlo ad una famiglia vera e non a uno che ha scelto il celibato o è stato chiamato al celibato. Ma la trasfiguriamo, credo, nella misura in cui la rispettiamo. E ne riconosciamo le sue fragilità, ma la rispettiamo nella sua bellezza e nella sua unicità. Ecco, ogni famiglia, credo, sia un piccolo capolavoro, sia un quadro particolare di amore che tratta dell'amore fondamentalmente di Dio per l'umanità, di Cristo per la sua Chiesa. È un qualche cosa di grande, di enorme, lo dice San Paolo nella lettera degli Efesini, un mistero che non vuol dire una cosa strana, impossibile, no, vuol dire la vita di Dio qua giù. Ed è la famiglia a cui il Signore Gesù ha chiesto e ha dato questa opportunità di esprimere in pienezza, nella relazione, nella generatività, l'amore stesso di Dio. Quindi io credo che la trasfiguriamo nella misura in cui le rispettiamo, le famiglie, e riconosciamo in ognuna un quadro particolare di bellezza, un tratto particolare dell'amore di Dio. E anche la fragilità poi umana, perché l'amore umano rimane pur sempre fragile, ma se è raggiunto da quello di Dio, può illuminare di luce e riflessa, che è la luce della divinità. Allora, Padre Franco, visto che di argomenti ne abbiamo ancora tanti, noi purtroppo abbiamo un'altra sosta pubblicitaria, però poi parleremo anche di un'altra figura alla quale sei molto legato, che è il fondatore della tua congregazione. Sì, se si può, volevo dire qualcosa. Io ho conosciuto una sola nonna, che era la mamma di mio papà, che è morta esattamente un mese prima della mia ordinazione sacerdotale. Ci teneva tantissimo a vedermi prete. Ieri era anche l'anniversario. Ieri era l'anniversario. Devo dire questo, per dire che già allora, parlo di 46 anni fa, era più facile rapportarsi tra nipoti e nonni che tra figli e genitori. L'unica persona in famiglia che sapeva, ero l'anno della maturità, che al termine sarei entrato in seminario, avrei fatto una scelta di quel genere, lì era mia nonna. E riuscì a mantenere tutti i segreti e a accompagnarmi lungo quell'anno. Bene, allora, grazie per averci regalato anche questa testimonianza, Padre Franco. Come dicevo, parleremo brevemente di San Girolamo Emiliano e di questo documento molto importante, del quale purtroppo è stata anche fatta una piccola lettura distorta del di Castero per i laici, la famiglia e la vita. Cercheremo nel poco tempo che abbiamo di dare qualche giusta dritta. Allora, invito i nostri amici a restare ancora con noi qualche minuto e poi ancora qui in diretta. Eccoci, allora, ultima parte del nostro programma, l'armonia della vita, e torniamo in diretta perché stiamo parlando insieme a Don Vincenzo al nostro arcivescovo, Padre Franco Moscone, di questa tematica bellissima dei nonni e degli anziani, ma abbiamo anche un po' divagato. Però è bello perché il filo conduttore rimane sempre lo stesso. E dicevamo allora, prima della pubblicità, Padre Franco, di questo santo, San Girolamo Emiliani, noi abbiamo fatto un cammino nelle ultime settimane insieme a Don Vincenzo con Padre Pio, quindi abbiamo parlato della tematica in famiglia di Padre Pio, di Don Tonino Bello, una testimonianza bellissima da parte del nipote, e anche San Girolamo Emiliani. Ecco, un po' preparando la puntata con Don Vincenzo abbiamo visto che è un santo di famiglia o della famiglia, a seconda di come lo vogliamo declinare. Puoi dirci qualcosa? Intanto bisogna andare indietro rispetto a quelli che avete citato prima di alcuni secoli in più. E i coniugi quattro occhi, i patroni dell'incontro mondiale, non li volevo per dimenticare. Dal secolo XX dobbiamo risalire al XV-XVI secolo, in quell'epoca che è stato il Rinascimento, quindi i 30-40 anni che cambiarono in quel momento il mondo, che cambiarono la cultura di allora, che fu il passaggio dal Medioevo al Rinascimento e all'età moderna, dei grandi, insomma. E tra i grandi, secondo me, della riforma dell'umanesimo, c'è anche lui, San Girolamo Emiliani, che era laico e rimase laico. Ha vissuto la vita familiare nella fragilità e nelle contraddizioni, insomma, era di famiglia ricca. La mamma era parte della famiglia del Doge di Venezia e Leonora Morosini. Il papà invece era di una famiglia di tipo più borghese, di quelle rampanti. Era riuscito anche ad essere podestà a Feltre, quindi aveva iniziato un percorso anche politico, Angelo si chiamava, ma muore in modo tragico quando Girolamo aveva tra i 10 e gli 11 anni. Quindi Girolamo fa l'esperienza da ragazzo di rimanere senza papà. Lui era il terzo di quattro figli maschi. Rimane legato alla mamma, anche che era quella con spirito religioso, il papà probabilmente non ne aveva. I ricordi degli insegnamenti della mamma fanno poi breccia in lui quando fallisce nella sua carriera. Aveva 25 anni, era diventato governatore di una castellania. fallisce perché in uno scontro militare lui era il politico della situazione ma viene imprigionato. E di lì riparte il suo pensiero sulla famiglia. Muore un fratello, Luca, che aveva due figli e per testamento lascia al fratello Girolamo che non era sposato di prendersi cura dei due nipoti che li assume quindi come figli suoi. E poi di lì inizia tutto il percorso tanto da accorgersi che non c'erano solo i suoi nipoti senza famiglia ma Venezia, grande città di mare, di porto, di commercio era piena di oggi si chiamerebbero i boy street, i bambini di strada. e allora dice questi sono figli miei e li accolgo e li porto in casa e in casa mia. Ecco, quindi è un santo che ha vissuto la sua famiglia in modo tragico sia la sua come papà e mamma insomma venendo e rimanendo orfano in modo così violento all'età di 10-11 anni e sia poi assumendo insomma anche da parte dell'esperienza del fratello non si è sposato ho preso un'altra direzione ma è stato padre per tantissimi e ha iniziato una via di paternità e è riconosciuto come l'essere il fondatore delle scuole professionali per dire il primo è dei contratti di lavoro e di apprendistato obbligando chi dava lavoro a firmare contratti di apprendistato con i giovani e con i ragazzi questo pensato all'inizio del XVI secolo è un'attualità disarmante e la sua è disarmante la sua intenzione era quella che poi il Manzoni scrive perché è stato alunno dei padri Somaschi nella morale cattolica e dice Girolamo insegnava e educava questi ragazzi di strada come se fossero figli di re ed è vero perché voleva che anche se venivano dalle strada le calli di Venezia tutti comunque imparassero a leggere scrivere e fare di conto e allora queste tre cose le facevano soltanto i figli dei nobili perché non c'erano le scuole per tutti e dare agli ultimi l'educazione della prima classe ecco secondo me è una rivoluzione ma è una rivoluzione della famiglia insomma fondamentalmente era dare la famiglia a chi era rimasto senza e quindi era rimasto sulla strada è il titolo padre dei poveri dunque condensativo che venne riconosciuto da Papa Pio XI nel 1928 quando lo dichiarò patrono universale della gioventù abbandonata poi più estesamente padre dei poveri perché lui alla compagnia a cui dà inizio insomma compagni insomma che si aggregano a lui per la missione che aveva iniziato l'aveva chiamata compagnia dei servi dei poveri ma intendeva poveri soprattutto i bambini quindi i minorenni i ragazzi di strada insomma quelli che non avevano famiglia bisognava dargli non avevano casa bisognava costruirla non avevano lavoro bisognava dare il futuro padre Franco l'ultima battuta visto che purtroppo il tempo corre riguardo a questo documento che è stato emanato ecco poche ore fa dal di Castero per i laici la famiglia e la vita sul catecumenato ecco per il matrimonio vorrei dire tante cose primo non l'ho letto non l'ho letto nessuno di noi credo l'abbia ancora letto ho letto qualche cosa insomma che è venuto fuori come anche lo schema beh due cose mi hanno impressionato primo è il richiamo alla castità è stato dai giornali interpretato male il papa insomma richiama la castità insomma nessun rapporto prima del matrimonio in realtà mi sembra insomma che richiama il valore della castità come un valore eversivo oggi e qui ne potremmo parlare ecco che è tutt'altra cosa ecco dal il valore eversivo di un'educazione della propria affettività e della propria sessualità e nella logica del possesso cioè tante volte la sessualità è vista come possesso dell'altro possesso del corpo dell'altro mentre la castità è una scelta di libertà per sé e per l'altro ed è un dono diventa dono reciproco e l'altro è l'aver utilizzato il concetto di catecumenato che qui lo dico senza volerlo negare nella nella storia della chiesa occidentale il catecumenato l'abbiamo perso dai primi secoli è rimasto semplicemente un termine chi sono stati i catecumeni negli ultimi secoli nella chiesa cattolica i bambini che dovevano ricevere il battesimo in effetti il termine catecumeno era coloro che si stavano preparando per il battesimo ma erano adulti e si doveva fare un percorso lungo è un impegno con dei passi con dei momenti particolari sono gli scrutini gli scrutini ecco ridire questo non è solo preparazione come pensavamo in corsi matrimoniali vuol dire che c'è un qualche cosa che impegna l'intera vita io ricordo quando ero giovane e mi impegnavo io non sono mai stato in parrocchia lo sanno quindi non mi sono mai impegnato in corsi di preparazione al matrimonio ho seguito per due anni un gruppo famiglia equip di Notre Dame ma poi cambiai di città e la persi ma mi dicevo ma io per diventare religioso per diventare prete ho fatto un anno di probandato un anno di noviziato due di filosofia un'interruzione mandato a livello internazionale tre anni di teologia il diaconato contavo nove tra i nove e i dieci anni e poi non basta perché non mi dà questo ancora la sicurezza di non fallire di non sbagliare per il matrimonio che cosa chiediamo in una preparazione vera perché il matrimonio come sacramento è più del matrimonio come istituzione o come famiglia che precede ovviamente allo stesso cristianesimo e che è culturalmente diffusa a livello mondiale parlare di un catecumenato significa a mio giudizio fare una vera rivoluzione io personalmente non saprei come come pormi nel costruire questo ma di sicuro è un termine rivoluzionario rispetto al percorso come intendevamo oggi come abbiamo sempre inteso di preparazione al sacramento del matrimonio cristiano allora mentre padre Franco ci prendiamo l'impegno di leggere le 200 e passapagine del documento perché più o meno si scrive troppo siamo su quella cifra lì più o meno e poi magari di riparlarne io devo andare 30 secondi da Don Vincenzo perché tu devi essere bravo a riassumere 15 puntate nel giro di 30 secondi ti lascio la parola perché siamo davvero in chiusura e la racchiuderei con una parola sola normalità lo vivremo anche qui in diocesi da noi nei luoghi di Padre Pio grazie anche a Padre Pio TV il 25 e il 26 con alcune testimonianze di famiglie alle quali sto chiedendo non fatti straordinari raccontate la normalità della vostra vita perché questa è la santità vera la santità passa attraverso il nostro quotidiano il costruire relazioni tra marito e moglie tra genitore e figli tra nonni e nipoti lo abbiamo ripetuto in più tante volte in più occasioni ecco il saluto è che ogni famiglia possa costruire la santità nel proprio quotidiano ma che lo deve sentire come una cosa bella da vivere non importa che non ci riusciamo e chi ci è riuscito in tutto siamo nei luoghi di Padre Pio Padre Pio che era il più grande dei peccatori lui che pure poi in una lettera al suo padre spirituale dice che io ricordo non ho mai fatto un peccato volontariamente che io ricordo eppure riteneva così siamo tutti fragili abbiamo tutte le nostre difficoltà oggi la famiglia la vive ancora in modo più più forte ma devo chiudere ecco siamo normalmente santi santi nel normale nel quotidiano grazie grazie Don Vincenzo grazie Padre Franco per la disponibilità grazie a tutti e ci risentiremo sicuramente presto per continuare a parlare di famiglie noi ci rivediamo la prossima settimana ecco perché questo incontro mondiale come già detto tu sarà all'attenzione anche della nostra emittente sicuramente ne continueremo a parlare grazie Don Vincenzo grazie ancora Padre Franco e buona serata a tutti quanti voi restituiamo la linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti